Il razzo è caduto lì, vedi, il marito di mia sorella e sua figlia sono usciti quando hanno sentito l'allarme, ma sono morti. Qui siamo poveri, non ha norma, non abbiamo rifugio, abbiamo perso anche 20 pecore. Arafat racconta così la tragedia che ha colpito la sua famiglia ieri notte, contadini arabi che vivono nella campagna vicino a Lod, città mista del teatro, nei giorni scorsi di sconti tra residenti arabi ed ebrei più violenti nello Stato di Israele. Fino alla scorsa settimana vivevamo abbastanza tranquilli, poi sono cominciati gli attacchi, guarda come è ridotta la mia macchina. I miei vicini hanno anche aperto il portone di casa a questi terroristi che mi hanno distrutto in mezzo appartamento, dice Lior. Accanto un residente arabo racconta la sua versione di come la violenza per le strade si è esplosa dopo l'uccisione di un arabo del quartiere, a cui un ebreo ha sparato per difendersi dai sassi. Bastano pochi secondi e volano parole pesanti, interviene la polizia. La situazione del tutto fuori controllo, dice un altro abitante ebreo del quartiere. Siamo nel centro di Israele, a pochi chilometri dall'aeroporto e guarda, cassonetti, auto, è una scuola ebraica in fiamme. Il museo municipale è distrutto, il sindaco l'ha chiamata la notte dei cristalli di Lod ed è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Il sindaco dell'Ikudeo, razzista, dice quest'altro residente arabo, ha cercato anche di proibire le preghiere musulmane e permette ai coloni di girare armati. Certo, la rabbia e la violenza degli arabi qui è esplosa dopo gli scontri nella moschea di Al-Aqsa. Non so come andrà a finire.